La vincitrice del concorso Platinum Pudding del Giubileo della Regina afferma che l'esperienza è stata surreale, dopo aver deciso di partecipare solo dopo che un'amica gliel'ha suggerito. Il rotolo svizzero di limone amaretti di Emma Melvin ha battuto 5000 dessert per diventare il budino ufficiale del Giubileo della Regina Celebrazioni. La sciocchezza, ispirata dai nonni del copywriter 31enne e da sua maestà entrerà a far parte della storia del cibo reale britannico, seguendo le orme del pollo dell'incoronazione e della spugna Victoria. E' stato il mio amico Sammy a mandarmi il link per fare domanda per la competizione e ho pensato che potevo anche farlo, mettere il mio nome nel cappello, ha detto la signora Melvin. Non pensavo di andare oltre, ma sono arrivata alla finale 50, è arrivato agli ultimi 5 ore e il mio budino è stato scelto. E' ridicolo. Parlando dell'ispirazione dietro la sua sciocchezza vincente, la signora Melvin ha spiegato, questa particolare sciocchezza è un tributo ad le donne, è mia nonna, mia nonna e la stessa regina. Ha aggiunto, mia nonna mi ha insegnato a cuocere, mi ha insegnato tutti gli elementi, tutto da zero. Il piatto caratteristico di mia nonna era sempre una sciocchezza, la chiamavamo la regina delle sciocchezze. Il suo matrimonio. Mary Berry e Monica Galetti, hanno preso una decisione unanime. Dopo aver evitato la concorrenza di altri 4 fornai creativi, la signora Melvin ha detto che spera che la sua ricetta vincente venga preparata dai fornai di tutto il Regno Unito per celebrare i 70 anni della regina sul trono. Spero che tutti in tutto il paese lo rendano possibile, l'ho reso davvero accessibile, ha detto. Il droghiere reale Fortnam e Mason hanno unito le forze con il Big Jubilee Lunch. I ceriti sfidare il pubblico britannico a creare una torta, una crostata o un budino originale e celebrativo che soddisfi i criteri di essere degno di una regina, avere una storia memorabile ed essere realizzabile per i fornai casalinghi. Oltre a gustare dopo aver ricevuto un feedback da Dame Mary, 87 anni, che ha presieduto la giuria del concorso, la signora Melvin ha detto di essere stata commossa fino alle lacrime quando l'amatissima scrittrice e presentatrice di Cibole ha detto che aveva inchiodato il brief. Ha detto, era adorabile ma era anche un giudice molto serio e l'ho apprezzato perché è stato fantastico ricevere i suoi consigli e il suo feedback. In realtà mi ha fatto piangere con il suo feedback perché era così adorabile. La signora Melvin ha aggiunto, ha detto che l'ho inchiodato. E da Mary Berry che ha detto che ho inchiodato una ricetta e una cottura un brief di cui lei sa tutto, ecco, quello era il momento. La duchessa di Cornovaglia si è unita a Dame Mary per lodare la signora Melvin, augurandole molte congratulazioni. Era una donna calorosa e meravigliosa, ha detto la signora Melvin. Parlando del piatto vincitore, Dame Mary ha detto, è assolutamente meraviglioso, penso che la Gran Bretagna sarà così felice e anche la regina. La ricetta vincitrice sarà disponibile online tramite BBC Good Food, Fortnite, Amazon e The Big Jubilee Lance.